Ma analizzando il risultato finale, le occasioni create, possiamo dire che la setana avrebbe meritato quantomeno di uscire da questa partita con un pareggio? Ma penso di sì, diciamo che ci prendiamo le nostre responsabilità, però il risultato è un po' bugiardo, perché comunque il Crotone non ha mai tirato in porta, primo tempo su un errore nostro, sul rilancio abbiamo preso questo Euro-goal, siamo partiti benissimo creando opportunità, il gol annullato di Jallov, è peccato perché secondo me è stato uno dei migliori primi tempi da quando sono qua, abbiamo incominciato bene il secondo tempo e poi come altro errore nostro sul 2-0 ha spianato la strada al Crotone, poi noi ci siamo innervositi un po' gli ultimi minuti, è stato un attacco soprattutto per inerzia, dispiace perché ci tenevamo a far bene, a vincere per provare ancora quella piccola speranza dei play-off, ci dispiace per i tifosi, per tutti, però purtroppo oggi è stata una giornata storta perché meritavamo di più.